a tutti da giusti bentornati o benvenuti sul mio canale grazie di cuore a chi mi segue e alla pazienza di supportarmi e di sopportarmi chi passa di qua per caso e si vuole iscrivere sicuramente sarà il benvenuto o la benvenuta ho dimenticato a legarmi i capelli vabbè ma niente allora oggi andiamo a parlare c'è pure la carta io amo pure la carta di questo brand allora questo acquisto è stato fatto il giorno del mio compleanno non scrivete sotto auguri perché è passato da un sacco di tempo insieme ad un altro ordine che è qua sotto questo qua non l'ho pagato io ma l'ha pagato il mio fidanzato allora se devo dire la verità io in realtà ho abbiamo promesso di fare due video sulle candele c'è uno e più un altro che ne avevo pensato due poi devo fare il video dei prodotti già utilizzati e sto testando in questo momento proprio prodotto la skin care di charlotte tilbury mi mancava un solo prodotto quindi era un po incompleta e l'ho recuperato ce l'ho acquistato e niente l'ho rimesso e poi ve lo faccio vedere e niente diciamo che fondamentalmente questi rientrano nei regali di compleanno perché allora la mia idea è un po questa nel senso che non acquisterò più skin care e neanche makeup a meno che non ci siano delle offerte o delle cose particolari sicuramente ho un altro video da fare qua perché ho acquistato anche su un altro sito dove c'erano vabbè delle offerte che mi intrigavano e mi piacevano appunto perché non acquisterò più skin care e makeup però mi terrò le box perché ho già abbastanza prodotti da utilizzare per tutto il 2022 e forse anche 23 anche se devo dire prodotti charlotte tilbury ho dovuto acquistare un ulteriore prodotto perché non ce la facevo con quello che avevo nei calendari dell'avvento nel senso che mi rimaneva più crema e il siero era andato via perché utilizzandolo mattina e sera vabbè lasciamo stare allora andiamo a vedere che cosa c'è qua sotto che ci sarà allora ci sono due scatole allora ovviamente lei omaggia di due sample stavolta niente nient'altro quindi solo un sample della light cream la magic cream in formato light che devo dire è strepitosa e sinceramente tra questa e l'altra la differenza è davvero minima nel senso che anche l'altra è molto leggera non è corposa potrebbe essere utilizzata veramente come primer o anche il siero può essere utilizzato come primer raga siamo in un altro mondo veramente poi ho deciso di prendere questi due sto scherzando ovviamente sono solo i sample dei due cleanser in due step non ho capito se uno è una maschera l'altro un cleanser non lo so ma vedrò perché appunto non avendo fatto il video ancora non ho utilizzato nulla vabbè poi c'è un deplian con il nuovo rossetto il solito sconto eccetera allora questa può essere definita a mio parere sicuramente la beauty box di san valentino you are secondo me my star i love you allora sapete benissimo che cosa c'è all'interno perché comunque avevo scritto un post e poi credo che sia stata pubblicizzata in ogni dove ci sono quattro prodotti della linea pilot talk e comprandoli sapevo benissimo che andavo a creare dei doppioni nel però chi se ne frega cioè nel senso che sono talmente top dei doppioni che tra l'altro io ho utilizzato poco perché ho utilizzato moltissimo la palette quella presa insieme al calendario dell'avvento allora bando alle ciance ovviamente è tutto chiuso sto scherzando l'ho solo messa sopra è tutta la velina che c'era per ovvi motivi cioè non è che non la pace è da da gennaio perché questo coso c'è no da gennaio è arrivato molto tempo dopo l'abbiamo ordinato a gennaio allora all'interno c'è ovviamente il code la palette la luxury palette sempre della linea pilot talk nella mia colorazione ve la faccio vedere per correttezza e poi ovviamente vado a swatchare quella che era appunto la mia che ho utilizzato credo solo un paio di volte e non non è male allora questa è quella mai usata e che adesso io richiudo con molta nonchalance ok scusate capelli ma di solito preferisco legarli visto che comunque non mi faccio vedere però mi sono dimenticata pure la velina mi sono dimenticata quindi non so adesso che cosa succederà allora questo è il primo prodotto allora vado a prendere perché l'ho già preparata ovviamente questa è la mia che come vedete è poco utilizzata l'avrò utilizzata sia in due volte perché mi intriga molto stranamente non pensavo quella quella grande quella non mi viene il nome perché ha anche un nome anche lei senza veline non ce l'ho la velina quindi ok allora questa credo che si vedrà poco perché questa io la enfatizzo con un ombretto mono che è qua dentro e che ovviamente è doppione allora i colori sono questi ovviamente sono molto tenui perché ovviamente siamo sempre sul rosato come voi ben sapete chi mi seguo oramai sa benissimo comunque questa questi qua più o meno sono i colori so che avrò fatto un casino ok oddio i miei capelli sembrano neri dietro al monitor vabbè considerazione mia allora mi vado a pulire allora all'interno questo è uguale a quello che avevo c'è ovviamente l'ombretto mono quello meraviglioso che tu prendi con le dita adesso questo per aprirlo ci vuole ci vogliono ci vogliono le forbici ecco io non le ho però ve lo voglio ve lo voglio far vedere per correttezza perché sembra che io altrimenti sia una giallatana scusate quando faccio così sono imbecille più che allora ok ovviamente vi vado a sbocciare il mio allora la colorazione è quella base quella più chiara come ovviamente potete immaginare questo raga io lo adoro c'è una roba stratosferica insieme all'illuminante che era nel nel calendario del dell'avvento allora questo è quello mio che avevo acquistato in precedenza è uguale scusate se non ho aperto quello mio anzi perché per ovvi motivi perché si va a seccare allora oddio ho preso un casino di prodotto allora vabbè adesso avendo preso un casino di prodotto succede questo ma vi assicuro che prendendo poco prodotto è una roba meravigliosa perdonatemi non arrivato a fare il video perché ovviamente sarebbe anche non sarebbe carino ecco qua ok non ti devi intossare così ok allora ok credo di aver di aver reso l'idea allora non va via neanche con la velina di questa qua non è bifasica bifasica è bellissimo allora all'interno mi sto confondendo ok questa era la palette ok c'era la matita in e lipstick ovviamente della stessa colorazione allora vi vado a far vedere io ce l'ho però se devo dire il mio è un po' diverso perché questo qua è pilot talk numero uno c'è la collezione precedente per indenterci credo che questo era nel calendario dell'avvento dello scorso anno però nella colorazione medium e allora andiamo a sfociare direttamente questo io il mio l'ho preso ma è leggermente diverso c'è ma di un mini mini allora tanto so che questo lo metterò pure tra i piedi da utilizzare e stratosferico qua siamo in un altro mondo raga me ne sto accorgendo con la skin care mentre la matita anche se quella del calendario dell'avvento perché io quella o è questa che era mini size sempre piloto alcuno piloto 2 questa mentre questo è uno ci hanno dato quella precedente devo dire che non c'è nessuna differenza io non ho visto nessuna differenza questa è quella ovviamente in full size che era qua dentro e questa è quella in mini size che era nel calendario dell'avvento ve le vado a sfociare tutte e due allora come vedete c'è una sottile differenza perché io non sapevo che piloto alc ci fosse 1 e 2 quindi nel calendario dell'avvento abbiamo trovato il 2 io ho acquistato anche il rossetto che arriva no sì questo era nel calendario dell'avvento no questo non è il calendario dell'avvento e invece qua dentro c'è l'edizione precedente questa cosa non lo sapevo adesso allora però sicuramente tutto molto capirai tutto molto gradito allora basta e poi mi rimetto tutto a posto andiamo a vedere che cosa c'è allora quindi questa era quella che è ancora in vendita credo secondo me è un bel regalo di san valentino mi raccomando mariti fidanzati amanti fate un bel regalo amanti è bellissimo allora dopo di che ho preso delle cose che volevo che volevo e ovviamente charlotte sapeva del mio compleanno perché la mia amica ovviamente loro lo sai lo sapete no che fanno lo sconto compleanno eccetera e quindi mi hanno fatto inserire mi hanno permesso di inserire è solo una carta però è una carta calamitata cioè raga si richiude questa aspettate che la faccio vedere meglio da qui ci si rincolla e ve la tenete così la scatola sotto la scatola è uguale quindi acquarius ok e dentro la scatola è identica a quelle classiche proprio del brand non so che video io stia facendo in questo momento nel senso che sono un po così oggi un po stranita allora ovviamente come questa è messa sopra perché per ogni motivi cioè capite che arriva charlotte tilbury e purtroppo io sono rallentata nel fare video in questo periodo allora ok andiamo subito al sodo allora sono andata a prendere il fondotinta se mi sono tolto all'ospizio il nuovo fondotinta di charlotte tilbury che ovviamente mi dispiace ma non sborcerò la colorazione è la prima si chiama neutra 1 appunto colorazione 1 neutral se non l'ho neanche aperta quindi perché voglio aspettare un po prima di aprirla perché ne ho quattro aperte ovviamente non sue non avevo mai provato nessun fondotinta suo ce ne sono tre diversi questo credo sia l'ultimo e per adesso lo teniamo in stand by allora altro prodotto allora tiriamolo fuori perché altrimenti allora poi il mio fidanzato in realtà l'ha preso vabbè non c'è perché alla fine lo volevo io questo qua che in edizione limitata ci sono tre colorazioni di questo qua se non sbaglio questa è la dovrebbe essere la prima c'è quella più chiara perché qui fondamentalmente andiamo proprio sul rosso rosso che credo sia proprio tutto bacioso tutto sbaciocchiosa allora eccolo qua il pack vabbè ciaone quindi anche questo mariti fidanzati mi raccomando allora è bello scuro quindi io mo mi devo mettere questo però non è scuro proprio brutto e c'è bellissimo raga io non ci posso fare niente è un debole per questo brand purtroppo non solo per questo brand allora poi ho deciso di prendere un altro scusate se l'ho già aperto e perché questo non l'avevo visto invece l'altro si e quindi l'altro lo tengo chiuso e ho preso un altro ombretto mono perché sono la fine del mondo c'è lui vai ad usare con le dita e sta bene che l'ho aperto l'ho scassato scusate la parola scassato ma è così allora ero molto curiosa ero molto titubante anche perché non è facile acquistare online soprattutto quando sai che poi se non vai ad us utilizzare un prodotto sono cavoli allora ecco qua allora prova a prendere questa puntina che c'è nel tappo che veramente ma è troppo po pochissima allora ne prendo proprio un pizzichino da qui e chiudo ok stavolta ne ho preso poco ditemi se è brutto c'è qualcuno sottoscriva che questo ombretto allora io non lo so quello che si riesce a vedere così con questi mezzi ma è bellissimo esattamente come quello di prima che però ho sbocciato a cavolo perdonatemi quello è ancora più chiaro non mi son pentita di averlo preso perché alla fine mi è andata bene non ho sbagliato e lo sapevo già perché già l'avevo visto come avete visto già era bello che ha aperto allora poi ho preso dei matitoni perché vabbè questo c'era nel lasciamo stare questo è un intuso questo c'era nel calendario dell'avvento mi è piaciuto un casino e ho voluto prenderne altre tre sì lo so lo sono non dite niente infatti ho detto che non acquisterò più nulla questi rientrano nei miei regali di coppia non acquisterò più nulla perché devo smaltire tutti questi prodotti allora questo qua lo so che qualcuno dirà mi che devi fa con sto viola raga devo fare una cosa perché ho già individuato come dire ma guardate questo c'è io anche ce l'ho ancora qua mi sento male mamma mia è bellissimo allora il viola ovviamente è questo qua ci puoi far la riga ci puoi cioè io voglio fare degli intrugli non lo voglio utilizzare in maniera singola come faccio con i matitoni della sisley poi ne ho preso uno che intendo mettere tipo come c'è tipo come eyeliner ci avete capito c'è nella parte alta della palpa alta bassa della palpebra superiore che questo qua c'è questo champagne scusate ho detto la colorazione questo si chiama champagne diamond perdonatemi ok eccolo qua questo fondamentalmente si può mettere con tutto e con questo qua poi ci vai a giocare cioè ci vai a giocare bellissimo chi vede sto video dice che questa è una pazza allora il colore è questo come vedete veramente 1 e 2 ci può giocare ok allora è dulcis in fondo solo un altro ne ho preso raga non ho fatto più danni questo qua che bello scuretto ma con questo qua non ci vado a tocciare tutto l'occhio sicuramente neanche con gli altri perché non sono i matitoni appunto quelli che dicevo con questo magari anche si e allora lo swatcho a fianco a questo qua ma devo fare solo una linea è tipo un marroncino che però marroncino non è è tipo una sorta di bordeaux quello che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento completa il tutto ve lo faccio vedere ovviamente non l'ho acquistato adesso era dentro il calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury e a mio avviso mi va a completare la linea dei matitoni a mio avviso poi ovviamente è una questione di gusti e di preferenze anche perché dico per quanto riguarda la box quella lì quella scontata perché comunque alla fine se andate a comprare quella palette quel code di palette più cioè vi viene molto più di quello che ho pagato che in questo momento non so perché non ho preso il cellulare per guardare l'email allora questi sono i danni che ho fatto tanti danni e che non ho pagato neanche io e niente dovrei fare poi il video che ho fatto su un altro sito e forse ne farò due di video perché mi dilungherei devo decidere devo capire se riesco a fare in fretta ne faccio solo uno così vi risparmio tutto cioè vi risparmio due video oppure ne facciamo uno perché ho visto che già questo sta durando tanto ok allora quindi chiudiamo vi saluto vi mando un bacio un abbraccio ciao e grazie ancora a chi si è iscritto e grazie a chi si iscriverà magari guardando questo video di Charlotte Tilbury grazie di cuore ciao ciao